salve a tutti dal campanaro 5 ci troviamo su roblo blocks nella chiesa di san gabriele e oggi faremo suonare due campane ma oggi preferisco di farla suonare uno alla volta con l'ascolto ripeto anche se ci sono 200 milioni di tutorial caricati alzo il pelo e accendo la chirurgia agendo dalla radice non pettinando il pelo e alzando il pelo grazie a tutti 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 grazie a tutti